Vabbè, con Francesco devo salire per forza perché abbiamo l'intenzione di fare un buetto insieme con Abba Tantuomo, poi c'è l'intervista, con Abba Tantuomo sarà un scherzo continuo per cui si sarò anche lì, poi mi piacerà presentare Simona che giustamente inserita in un programma di comici, una cantante, lei non sa che comunque al nostro pubblico piacere anche un po' di musica e quindi si è resa a conto che ha una parte importante e Simona canterà delle canzoni spreditose, sono convinto che il pubblico la soddisperà con un proprio piacimento.